no regà è la corsa, è la corsa regà regà è grevissimo al prezzo di 13 euro e sono andate letteralmente a ruba sono le 11 della mattina le scarpe già non ci sono più ci sono però le ciabatte non si sa se arriveranno altre scarpe da ginnastica giallo blu lidl nei prossimi giorni ma intanto buongiorno mattino non esso 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 è un'ottima i non esso è quello che è